Chiedono risposte serie, chiare e reali e le chiedono direttamente al management della Kering perché dalla data dell'acquisizione, a fine 2011, la Brioni Roma Style di Penne non ha più avuto un momento di pace e soprattutto non ha mai registrato un numero positivo, dal fatturato al bilancio, dalla produzione al personale. La perdita di quote di mercato importanti si traduce evidentemente in preoccupazione ed è per questo che Filctem, CGL, Femme Cacisle e Wiltec hanno indetto uno sciopero per il prossimo 12 febbraio e hanno anche chiesto un incontro al Ministero per lo Sviluppo Economico. L'obiettivo non è solo far rispettare il contratto nazionale di lavoro, ma anche e soprattutto conoscere le prospettive e il futuro dell'azienda. Sta andando male il progetto Kering Brioni perché assistiamo ulteriormente a perdite di fette di mercato anche nelle ultime vendite da notizie che ci arrivano da Milano e quindi noi abbiamo delle preoccupazioni molto forti perché per noi la ricchezza dell'azienda, il salvataggio dell'azienda passa attraverso la lavorazione dei capi Brioni dove noi siamo, dove il personale di Brioni è fortemente specializzato e professionalizzato. Abbiamo scritto anche un documento alla proprietà francese perché vogliamo capire la strategia che il gruppo ha rispetto al marchio Brioni, se è una strategia di futuro o una strategia di non futuro. La qualità è scesa tantissimo e purtroppo il capo Brioni, il cliente Brioni riconosce il capo Brioni, è una giacca Brioni che viene venduta a 5.000 euro in negozio e deve avere un suo perché dell'acquisto e non come viene presentato nei negozi del mondo. Ci hanno sempre presentato piani, sempre commerciali, ma industriali. Loro lo chiamano piani industriali, ma non ci sono investimenti, dietro a dei numeri che sono poggiati lì sulla lavagnetta e in cui ci dicono che dovremmo fare questo.